E dopo le campane della Chiesa di San Lorenzo Martini, torniamo a parlare di Avis, qui a Trezzano, su Naviglio, per la Civil Week 2024. È importante anche quello che fanno i volontari in Avis, giusto? Quanti volontari avete? Cosa fate? Allora, abbiamo circa una quindicina di volontari che fanno parte del Consiglio Direttivo e ci occupiamo, diciamo, di organizzare appunto gli eventi sul territorio. Per quanto riguarda i donatori, chiedo l'aiuto da casa, da William. I donatori sono 562, abbiamo circa 800 donazioni. Solo Trezzano, su Naviglio? Solo Trezzano, su Naviglio. Complimenti. E abbiamo oltre 800 donazioni all'anno. Ricordiamo un po' come si fa per donare, come si deve fare, quante volte all'anno si può donare? Dipende dal... Allora, i maschi possono donare quattro volte all'anno di sangue intero ed eventualmente anche tre o quattro volte di plasma. Poi, mentre invece le donne in età fertile, solo due volte all'anno e dopo anche loro quattro volte. Anche loro possono donare il plasma, come gli uomini. La donazione, noi facciamo la donazione in due modi. O andiamo a San Paolo facendo una servizio navetta per i donatori che non possono andare contro loro, o se no facciamo venire l'automoteca di Avis Milano per fare la donazione qua in loco. Naturalmente la donazione con l'automoteca è più comoda perché se sei in paese... Cosa qui? E' questa qua. Questa qua dietro, questo bellissimo camper di Avis. Dove a bordo ci sono ovviamente tutte le attrezzature come un piccolo centro trasfusionale, c'è un'equipe medica, ci sono due medici che come sempre fanno prima uno screening sul donatore e poi se tutto è ok può fare la donazione. La donazione è gratuita, vi fanno anche lo screening gratuito, diciamolo perché può essere un incentivo in più. Gli esami, vengono fatti tutti gli esami, anche diciamo così il colesterolo, un check up del sangue praticamente completo. Ogni tre mesi hanno un referto medico che faccia come è la situazione. E anche può essere una motivazione in più. E questo salva la vita di tante persone. Guardi, prima poco fa è passata una donatrice che ha detto, c'è una donatrice scusate, una persona che ha detto io voglio ringraziare tutti i donatori perché proprio a settembre ho fatto un intervento se non avessi avuto la possibilità di avere quattro trasfusioni probabilmente non sarei qua a ringraziarvi. Quindi è venuta proprio personalmente a dire grazie a tutti i donatori. Esatto, e questo credo sia la soddisfazione più grande appunto quale sapere di poter aiutare il prossimo, di aiutare chi ne ha bisogno in quell'istante che appunto senza il nostro aiuto non sarebbe poi qua a magari dici un grazie o anche semplicemente un sorriso. Grazie mille a Davis, grazie mille a Davis di Trezzano sul Naviglio. Continuiamo a raccontare la Civil Week. Nella prossima appuntamento siamo, non ve lo dico perché dovete seguirci. Grazie mille a Davis. Grazie mille.